benvenuti a meteo giulianci.it oggi venerdì 30 marzo ancora tempo bello soleggiato su tutta l'italia è ancora caldo al centro nord per un'alta pressione che dall'inghilterra si allunga verso la nostra penisola ma vediamo la mappa del satellite delle ore 6 vedete un italia sgombra da nuvole eccetto un po di nuvole innocue sulle venezie per una perturbazione diretta verso i balcani un po di nuvole innocue anche sulla sicilia per una debole perturbazione africana che tempo allora farà oggi il sereno che domina quasi ovunque accetto un po di nuvole sulle alpi centro orientale sul friole venezia e giulia un po di nuvole innocue anche sulla sicilia ma per il resto non vi è altro da rilevare bene passiamo alle temperature massime per oggi vedete valori al centro nord ancora tra 22 25 gradi quasi ovunque e quindi ancora caldo fuori stragione al centro nord per la giornata odierna bene termino qui vi ringrazio per l'ascolto ancora un buongiorno